La pioggia ha solo disturbato ma non ha mutato lo spirito ed il significato della festa del primo maggio dei lavoratori ex miroglio nello stabilimento di Ginosa. Piove, pazienza, tutti in uno dei grandi capannoni di recente acquisiti dalla proprietà all'amministrazione comunale. Tutti e tutti insieme, in testa i lavoratori, i dirigenti della CGL, i sindaci di Ginosa e la terza. I colori politici non fanno differenza. Ci sono le famiglie dei lavoratori, i bambini. Questa è la festa del primo maggio diversa dalle altre e la lotta per i sacrosanti diritti senza barriere ideologiche e di appartenenza politica. Unità vera, dimostrata e consolidata in anni di sofferenze. Il segretario della CGL Ionica Luigi Di Sabella. Grazie alla tenacia e alla combattività di questi lavoratori che in questi anni sono in momenti anche molto difficili, passando esperienze di tutti i tipi, hanno mantenuto forte la loro iniziativa, la loro unità e sono stati la leva per dare ancora una prospettiva, una speranza a questo stabilimento. Hanno smosso cittadinanza, istituzioni dalla regione al comune, al governo e oggi la lotta che continuano a portare avanti non è una lotta di retroguardia. Oggi il tema del primo maggio è difendere il lavoro, difenderlo e svilupparlo.